E' il momento ok per il signor Alessandro Pacchini Ciao Alessandro, ben arrivato, attenzione giochiamo, apriti Sesamo Splendida cornice realizzata in argento 925 ed elegante fattura dal design semplice di linea moderna con motivi di decoro che si ripetono su tutto il contorno Alessandro, il prezzo giusto quale sarà? 400.000 Franco? 250 300.000 180 Allora il prezzo giusto è 257.000 lire e vince Franco Ciao Franco, buonasera, ben arrivato, allora come va? Bene, tutto a posto Tutto a posto? Oh sono contento, da dove vieni? Dalla Spezia Ah qui dalla Spezia? E ci vuoi dire che cosa fai? Faccio il cuoco Ah ottimo, sai che noi qui amiamo tanto i cuochi, dove? In un ristorante? No, lavoro presso una dita di mensa azientale Una mensa? Hai capito? Eh, puoi dire anche dove? La mensa dell'Enel Ah 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 E' lui che me l'ha fatto dire, lui Ah il tuo amico, ma è vero o no? E' vero, è vero, è vero Ecco è vero E come si mangia la mensa? No, dillo tu Abbastanza bene, abbastanza bene Sì Cioè passate il primo, il secondo, quanti primi? Diciamo che abbiamo una scelta di quattro primi, e tre secondi, e due contorni Beh, non è male, anche da noi? Anche qui alla mensa qui di Canale 5, che non è Voi avete, come si, ma eh, voi abbiamo un esperto Ma sinceramente, come hai mangiato alla mensa qui oggi? Bene, molto bene, sì Sì Vedete da, detto da un esperto, insomma ci possiamo credere Andiamo a giocare, andiamo a giocare, vediamo che cosa ha la trappola I premi per il gioco della trappola sono Gourmet di Sambonè, originale servizio da 5 pezzi di bazellame da fuoco Sambonè Disegnato da Michele De Lucchi e realizzati in acciaio inossidabile Radio registratore stereo, portatile, connettore cd, doppia piastra, cassetta e sintonizzatore Autoparlanti a scomparti acustici, potenza di uscita a 50 watt Gourmet di Spugna di cotone, 100% Due accappatoi, doppiato, geometrico e cashmere Un telo, due coppie di asciugamani e un accappatoio Nizza con zainetto Prodotti distribuiti da Manifatture Rossi, Casazza, Bergamo Gourmet di Sambonè, macchina fotografica compatta Completamente automatica e dotata di flash e zoom 38 105 incorporati e completa di una pratica borsa Per poterla trasportare ovunque Gourmet di Sambonè Ed eccoci qua, allora, attenzione ti faccio vedere il prezzo Trappola, 459 mila lire Lo vedete? Lo vedete bene? Ok Allora, beh, c'è un oggetto che costa 459 mila lire Quello non me lo devi dire, dimmi gli altri tre E poi li porti a casa, tutti e quattro Dove vai? Dove vai? Dove vai? Le pentole Vediamo se le pentole 455 mila va bene Vai pure avanti Gli asciugamani Allora, coordinato di Spugna Lo so perché è arrivata la voce di qualcuno Proprio chiara, vero? Sì, sì Asciugamani, asciugamani E lui subito Eh, vabbè, insomma, mi dispiace D'altro canto non è neanche semplicissimo vincere Non sei stato fortunato Qui ci vuole la fortuna, eh Bene, con lui ci vediamo naturalmente Alla ruota della fortuna Ma intanto chiamo subito il prossimo concorrente Il prezzo giusto è ok Per la signora Maria De Leo Buonasera Maria Ciao, Lino Attenzione, guardiamo l'oggetto in vito Apriti, Sesamo Telefono con segretaria telefonica incorporata 15 numeri memorizzabili Micro cassetta singola Complimento e telecomando Signora Maria 150 Ilaria 200 450 350 Allora il prezzo giusto è 250 mila lire Vici Ilaria Vieni Ilaria Allora io voglio salutare, voglio salutare la signora Posso fare un saluto? Ma certo, so che viene da Arbatax in Sardegna, vero? Quasi vicino, saluto mio figlio, mia madre e tutti Mi spiace che non l'ha potuto giocare, buon rientro in Sardegna Poi salutiamo Beh, simpaticissimo questo ragazzo L'abbiamo visto in apertura di programma Io volevo fare anche un regalo a lei signora Ilaria Io volevo fare anche un regalo a lei signora Ilaria No, ma non ti disturbare Sare Debora Ok Ok